Guarda, venga più, almeno così si vede perché sennò non si vede. Era proprio di qua, proprio il tetto, ci saranno in alloggio penso. Eh beh sì, abbiamo avuto abbastanza paura, anche perché poi le fiamme si sono alzate vicino e lì ci hanno detto di scendere subito, anche perché poi qui avevo la plastica, il tendone, rischiavo di... cioè, piavo a tutto fuoco per quello. Come è andato? Ma sono venuti i vigili? Eh sì, poi sono venuti i vigili, i pompieri e hanno subito... ci hanno messo un bel po' per spendere. Quante famiglie sono state da qua? Beh, sette, otto famiglie, più o meno sono quelle lì. Ti siete un po' spaventati? Eh, abbastanza, col fuoco non si può scherzare. Grazie. 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 Grazie.